Questo è Palazzo Rosso, a Cengio, nell'entroterra di Savona, unicum nell'architettura industriale degli anni 30 del secolo scorso. Rosso, perché costruito interamente in cotto, per farne il dopolavoro dell'industria Sipe, società italiana prodotti esplodenti, poi Acna, azienda coloranti nazionali affini. Per quasi 80 anni, Centro Culturale della Valle ha ospitato balli, ricevimenti, premiazioni, banchetti, concerti, proiezioni cinematografiche. Facciamolo rivivere nella sua bellezza con la bellezza dell'arte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.